E' capace di intendere di volere, per questo merita l'ergastolo. Il sostituto procuratore Paola Crispo ha chiesto la condanna a carcere a vita per Alberto Scagni, 42 anni, che nel maggio dell'anno scorso ha ucciso a coltellate la sorella Alice in via Fabrizzi, nel quartiere di Quinto. Per il PM vanno confermate le aggravanti della premeditazione, della crudeltà e per aver usato un mezzo insidioso. Alberto infatti aveva nascosto il coltello in un sacchetto per far scoprire dalla sorella ed evitarle la fuga. Molta tensione in auto, tanto che il giudice ha disposto all'allontanamento del padre dell'imputato. L'avvocato Andrea Vernazza, che assiste Gianluca Calzone, nel marito della vittima, ha preso la parola prima della richiesta dell'ergastolo da parte del PM e ha innescato una reazione nervosa dello stesso imputato. Il legale ha chiesto un disarcimento in via provisionale di oltre un milione, rimarcando che i genitori avevano chiesto di costituirsi parte civile per aiutare il figlio a non essere punito. A questo punto il papà di Alberto Scagni si è alzato in piedi urlando che loro non avevano mai chiesto una soluzione ma una giusta pena. Il presidente della corte, Massimo Cusati, lo ha prima richiamato per riportarlo alla calma e poi lo ha fatto allontanare dall'aula. L'avvocato Vernazza ha detto che Scagni è perfettamente in grado di intendere di volere e che l'epilessia di cui Alberto soffre da quando era bambino non può essere curata con le canne e con il vino bianco prodotto e fornito dal genitore. L'imputato allora ha deciso di parlare per puntualizzare che la cannabis viene usata a fini terapeutici per la culla dell'epilessia. Il processo è stato rinviato al 28 settembre quando opererà la difesa. Il giorno dopo ci saranno le eventuali repliche e con ogni preparabilità la sentenza.